Eccomi, eccomi! Eccomi, eccomi, eccomi! Disturbo! Sono le tue brevi! Mio marito! Ti tradisce? Quello a stranzo! Mio marito mi tradisce ogni due settimane da tre anni. Facendo un rapido calcolo. Ma pianta! Ti dico che è così. Senti, lo so che sei nervosa. DAAA! Un topo! Dove? Un topo! Dove? L'amore è da nerd. No? Looser! Sono tornata inaspettata e lui non era in casa. C'è solo una spiegazione. Mee! Oh, una sigaretta! Non fumo! Da quando? Da sempre. Ah, mi sono rocchi! Volentieri! Ah! Non spendo più la randa! Se non mi dobbiamo! Se non mi dobbiamo per colpa di mio marito io l'odio! Tu Elisa stai avendo una crisi di nervi! No, 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 una crisi di nervi! 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 Grazie a tutti.